Benvenuti amici, un saluto da altri 1990 del P, eccoci qua con un altro video, sempre sulla Super League Cinese. Oggi vi porto Ezechiel Lavezzi. Allora, il nome è Ezechiel, con il mio Lavezzi, il nome è solo diviso Lavezzi, Argentina. Ovviamente la squadra qui è l'Ominia, si chiama Omia Ardia, ma come vi ho detto, insomma, tentando sempre idealmente, è l'Ebay Fortune. Attaccante, sinistra, quindi l'astero d'attacco, numero di maglia 10, destro, piede destro, è nato il 3 maggio del 1985. Passiamo all'aspetto. Altezza 1,73, 75 kg normale. Carnagione, mettiamo questa. No, così ci sta male, quindi lasciamo questa qui. Ok, capelli, stile lunghezza, andiamo corti, e andiamoci a prendere ordinato, stempiati. Ancora i capelli nero, nero, nero. Stile barba, andiamo a prendere barba completa, purtroppo non c'è quella bella folta che avrebbe Lavezzi, però noi ci dobbiamo adeguare, colore barba, nero. Sopracciglia, posizione sopracciglia leggermente alta e normale. Forma sopracciglia, allargate giù e spesse. Occhi, taglio degli occhi distanti, giù e piccoli. Dettaglio occhi 1, normale, normale. Dettaglio occhi 2, larga e aperta. Colore occhi, marrone. Orecchie, posiziono orecchie leggermente in dentro. Tipo di orecchie, lovo, sì. Naso, posizione naso stretto e basso, basso e stretta. Tipo di naso, normale. Se è bello metterlo così di storto, comunque è normale. Profilo naso, curvo e piccola. Narici, basse e strette. E dettaglio narici, strette. Guance, posizione zigomi, normale. Tipo di guancia, leggermente piatte, ma non tanto. Bocca, posizione bocca stretta e leggermente sotto in fuori. Labbra, sottile, sottile. Stile labbra, leggermente in su. Mascella, basso e strette e definita. Mento, lunghe a punta e in fuori. Questo è quello che guarda, ragazzi, l'aspetto di Ezechiella. Qui gli accessori, ragazzi, sempre come volete voi. Passiamo alle categorie. Attacco, cross 80, finalizzazione 75, precisione testa 55, passaggio corto 85, tiro al volo 75, piede debole 4. Difesa, marcatura 20, contrasto in piedi 40, scivolata 40. Abilità, dribbling 85, effetto 75, punizione 75, passaggio lungo 65, controllo palla 85. Potenza, tiro 80, elevazione 70, resistenza 70, forza 75. Tiro dalla distanza 75. Movimento, accelerazione 80, scatto 85, agilità 80, reattività 80, equilibrio 85. Mentalità, aggressività 75, abilità tattica 30, posizione in attacco 80, visione 75, rigori 70. Infine, portiere, ragazzi, la mettiamo però 30, marchi di fabbrica 30, 10, 10, 10, 10. Questo, ragazzi, per quanto riguarda Ezechiela Rezzi. Il video finisce qua. Spero vi sia piaciuto, spero sia di vostro gradimento. Vi ricordo ancora, insomma, vi chiedo ancora se il video della squadra cinesi, ideali, ormai l'ho detto 50 volte. Spero, insomma, mi sia utile, mi sia piaciuto. Purtroppo non è semplice giocare con quelle squadre lì, pensandole magari che una sia al Guanzu, una sia Lebei, eccetera. Però, purtroppo, mantengono lo stesso il loro stemma e il loro nome giapponese. Però, insomma, con un po' di fantasia, magari anche con i giocatori al loro interno, qualcosa cambia. Io, insomma, spero che riusciate a fare anche magari un campionato, per chi possa piacere, per chi possa interessare. Ovviamente non aspettatevi che queste squadre qui abbiano dei budget enormi, vanno un milione, due milioni a testa. Però, già avere giocatori così, magari venderne uno, per dire, farsi 40, 50 milioni e poi rifarsi tutta la squadra, non sarebbe male. Comunque, ragazzi, nel video scorso, quello delle squadre cinesi, nella descrizione vi ho messo, per sicurezza, insomma, se qualcuno possa interessare, la corrispondenza della squadra cinese con quella giapponese. Quindi, se magari uno se le vuole anche scrivere per ricordarsene durante il campionato, durante quello che farete con queste squadre qui, c'è, quindi andate sulla descrizione, troverete le varie corrispondenze, se non avete capito molto dal video, e poi, per altre informazioni, comunque, chiedetemi. Io sarò a vostra disposizione. Quindi, ragazzi, il video finisce qua, ci vediamo nei prossimi video con i prossimi giocatori cinesi. Grazie, ragazzi. Un saluto a tutti i giornali di 1912, qui con me, Ezequiel Labizzi.